Picerno Pescara ultimi 90 minuti della stagione regolare decisivi per il terzo posto, i Biancazzurri è sufficiente il pareggio, i Lucani, protagonista di un grande campionato, devono vincere, tante assenze da una parte e dall'altra, Picerno col 4-2-3-1 davanti Ceccarelli e Golfo esterni, l'esperto Albadoro alle spalle di Sant'Arcangelo, giovane interessante del 2003 per contro 4-3-3 torna Crescenzi, ma la novità sostanziale è Germinario, il luogo di Raffià che non è al meglio, sempre 4-3-3, naturalmente collaudato di Zeman con la conferma di Delle Monache a sinistra, subito un colpo di testa di Sant'Arcangelo, classe 2003, brivido per la porta difesa da Sommariva che sostituisce naturalmente l'infortunato Pizzani, poi sempre dall'altra parte la reazione del Pescara che in realtà aveva cominciato bene, colpo di testa di Lescano che sfiora il palo su corner abbattuto da Acraia, bella azione del Picerno, lo scambio nello stretto tra Albadoro e Ceccarelli, il suo sinistro a centimetri dal palo della porta difesa da Sommariva, poi calcio di punizione di Palmiero, colpo di testa di Brosco, sventato dall'ottimo Albertazzi, classe 1997, poi l'azione continua, 28esimo minuto, una partita che promette spettacolo, il calcio di rigore, in favore del Pescara, astuto, scaltro, merola, si sente toccare dal suo dilimpettaio, in realtà gli stava dietro il 25 Guerra che va a protestare, l'arbitro indica il dischetto, è sicuro della sua decisione Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria, Guerra viene anche ammonito, c'è stata la splendida verticalizzazione, dobbiamo dire, di Palmiero, recupero alto, fatto con i tempi giusti dal Pescara, molto scaltro, molto bravo nella circostanza, il numero 30 Biancazzurro, sul punto di battuta c'è l'Escano che spiazza Albertazzi, trettesimo minuto, Picerno 0, Pescara 1, questo è il gol numero 18 in campionato per l'attaccante italo-argentino che va ad esultare sotto lo spicchio della curva presidiata, occupata dai tifosi biancazzurri, circa 300 presenti a Picerno e non sono affatto pochi, 18 gol, trentesimo minuto, il Pescara la sblocca sul calcio di rigore contestato dai giocatori di Emilio Longo, la reazione con Golfo, il cross e poi il tentativo dello spagnolo Garzia che non riesce a trovare l'impatto giusto col pallone, questa è una grande opportunità per riequilibrare le sorti del match. Poi ancora un recupero alto del pallone, c'è l'inserimento ancora di Lescano, il stato di grassa supera Ferrani, lo elude con una finta e poi il suo destro che sfiora, lambisce il palo della porta di Albertazzi, quarantasettesimo minuto, siamo nel secondo tempo, attacca la formazione di casa, c'è praticamente un autogol sfiorato da Craia che colpisce il pallone e la palla termina la sua corsa sul palo, rivediamo un colpo di testa e poi quello di Craia, involontario naturalmente, era battuto sommariva, salvato dal palo, sarebbe stato un gol fortunoso però per il Picerno che attacca tantissimo, ma c'è il raddoppio del Pescara perché nel momento più delicato del secondo tempo, perché stava spingendo tantissimo il Picerno, al cinquantottesimo il raddoppio, avete visto l'azione, recupero alto del pallone, poi Merola che supera Garzia, il suo invito è un cioccolatino da scartare per Facundo Lescano che non si fa pregare, doppietta per l'attaccante italo-argentino, quota 19 nella speciale classifica riservata ai cannonieri del campionato di Serie C, ci sono dieci gol in nove partite della gestione Zeman, un rendimento pazzesco da parte di Lescano che ha saltato sette partite per i noti motivi, e poi dopo un minuto il Tris che praticamente chiude i conti, un'azione personale di Merola, il migliore del Pescara, ma si fa fatica a trovare davvero il migliore in questa partita che è stata, in questa prova che è stata in generale davvero sontuosa da parte di Biancazzurri, doppio passo ai danni dello spagnolo Garzia e poi con la punta del piede Mancino anticipa l'intervento di Albertazzi, e questo è il settimo gol nel campionato per il classe 2000, 3-0 al sessantesimo, poi Emmausso su calcio di punizione, è entrato in corso d'opera, cambierà i due attaccanti, l'allenatore del Picerno Emilio Longo accentrerà Ceccarelli, ma ormai insomma la partita volge al termine, solo mera accademia da parte del Pescara che aveva già fatto il suo nei primi 60 minuti, finisce 3-0, il Pescara dunque termina la stagione regolare al terzo posto e questa è la vittoria numero 19 in campionato, la nona in trasferta.